Si tratta di cinque dipinti chiamati Opscura per un cliente di nome Eko. Ma è un pazzo. Perché dovrai aiutarti? Perché sono pedinato. La gente muore là fuori. Arrangiati, Verne. Là, ti prego. Devi incontrare la mia amica Carvier. Lei può aiutarla. Non ricordi l'egento Verne. Mi hai abbandonata. Nessuno ha chietato. Via di cui! Lasciami in pace! Moncrow, hai trovato il divinto. Perché non me l'hai ancora consegnato? Non ne ho avuto il coraggio. Troppo pericoloso. Ci penserà lei. No! Allora sei ormai del tutto inutile. Voi umani siete così fragili. Non bisogna fare. Non bisogna fare. Non bisogna fare. Grazie.